Bella raga, io sono DemonGamer03 E oggi in questo video, come nei precedenti, andrò a aprire i regali del cappano di mezzo inverno Che non ho aperto questi giorni perché ero occupato e non ho potuto portare video Però oggi, che sto facendo questo video Aprirò questi regali Che sono 4 da aprire Nel cappano di mezzo inverno E allora che dire, andiamo subito ad aprire i regali Visita il rifugio Gli apro oggi i regali perché ieri, che era il 25 Perché oggi sto registrando questo video, è il 26 Il 24 neanche ho potuto perché erano due giorni tra il 25 e il 24 Che ero straoccupato, quindi non ho potuto portare video E quindi lo faccio oggi il video, che è il 26 Oggi è il giorno 14, come ci dice qua Ok, vediamo cosa c'è in questo regalo Andiamo subito ad aprirlo Una skin raga, una skin Rarità, raro Costume Guff pronto alla slitta Le previsioni danno guffa a cattinelle Fa parte delle set mesi d'inverno 2022 Guff pronto alla slitta Carino Come skin Riscattiamolo subito Benissimo Altri tre regali da aprire Benissimo Scegliamo il prossimo regalo Questo ancora non l'ho aperto Apriamolo subito Apriamolo subito Vediamo cosa ci sarà dentro Degli spray Molto carini Qua c'è qualcosa da aprire No Qua abbiamo già aperto tutto Bene Apriamo anche questo regalo Musica della lobby Rip e tear 2016 Lo rischattiamolo subito Andiamo con l'ultimo regalo Raga, siete pronti? Apro l'ultimo regalo E' il regalo più grande E' l'ultimo Chissà cosa ci sarà dentro Non vedo l'ora di scoprirlo Per scoprirlo dobbiamo andare subito ad aprirlo Una skin Bene Anche questa di rarità Raro Costume Adeline Artica E' la stagione della mota Fa parte del set mezzo inverno del 2022 Riscattiamolo subito Riscattiamolo subito Bene Abbiamo aperto tutti i regali Appunto Raga Abbiamo aperto tutti i regali del cappanno di mezzo inverno Questi erano tutti i regali del cappanno di mezzo inverno Usciamo subito da rifugio Bendissimo raga Concludo qua il video E concludo anche tutti gli episodi che ho fatto del unboxing dei regali del cappanno di mezzo inverno I regali li abbiamo aperti tutti quanti E quindi Che dire raga Io termino qua questo video Spero che sia piaciuto Lasciate un bel like se vi è piaciuto E noi ci vedremo al prossimo video che farò di qualche altro gioco Vedremo Raga che dire Un saluto dal vostro demo Un gamer03 E alla prossima Bella raga